Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Ora che la campana ha posto fine alla lezione, si può tornare alle buone maniere. Ma al posto del bono, ad arrivare sono le dispense da studiare per guadagnare nuovi, preziosi crediti. Ma quale crediti? Studiate, studiate, studiate. Ma cosa ne è arrivata? Già mi danno a studiare con calma, con calma. Nelson Mandela, bello. Sono scritti piccolissimo. Sono 100 pagine, non ne ho detto nemmeno per quanto sono, io non lo so come fare. Per qualcun altro invece, le preoccupazioni non sono certo rivolte allo studio. Vedete che adesso lui ci proverà con lei. Mia broca è una bella ragazza. Sì, anche suon'amore. Se Ryan ci prova con lei, credo sia un pagliaccio, perché se è con me ci provo ogni sera, poi arriva lei e ci provo subito con lei, allora sia un pagliaccio. Ha fatto qualche taggione? No, però io già lo so. Già vedo le donne che iniziano un po' a sputare veleno nei suoi confronti, quindi ci divertiremo per quello che ci succederà. I ragazzi avranno tempo di approfondire la conoscenza con Aurora a fine giornata. Buongiorno!